Non sei assolutamente adatto. Tu non hai nulla a che vedere con la vita militare, mi disse il colonnello. Non sei assolutamente adatto per la forma pensiero militare. Ho un consiglio da darti, spero che non ti offenda. Stavamo tutti e due a cavallo nella scuola militare. No, di certo. Fatti prete, tanto scopi lo stesso. Per te è risolutivo. Conosco tuo padre da un sacco di tempo, con te sarò sincero. Hai la faccia smorta di un avvocatucolo di provincia. Dici sempre grazie a tutti, anche a chi è sgarbato. Quando guidi fai passare tutti anche quelli che vengono da sinistra. Io risi per la prima volta da settimane. Colonnello, credo che lei abbia ragione. Io non ho ragione, disse il colonnello. Ho un istinto che mi dice che tu sei così. La settimana prossima io e mia moglie dobbiamo invitare a cena vecchi amici, tra cui un vescovo. Gli dirò come ti può aiutare ad entrare nella chiesa. No, colonnello, lo interruppi. Io non voglio fare il prete. Ma perché? Sei mangiato, pagato e accudito e poi scopi lo stesso. Non credo proprio che tutti i religiosi siano così. Credo invece che molti religiosi si sono scoperti e voluti proprio nella chiesa. Ma io non voglio lavorare per un'organizzazione. Eppure io ti vedo come una farfalla che mi piacerebbe veder prendere il volo nella spiritualità, disse il colonnello, questa volta sommessamente. Poi distolse lo sguardo da me e affondò gli speroni nella pancia del cavallo. Galoppiamo. Colonnello, gridai, il mio istinto, che io chiamo il mio sentire, mi dice che io posso fare solo il prete laico. Ma il colonnello era già lontano.